Ben trovati qui su Valdegnevole News, consueto appuntamento con il nostro amico erborista Claudio Tardelli. Buongiorno Claudio. Ciao, buona giornata. Senti, di che cosa ci fargli oggi? Volevo parlarvi della maggiorana. La maggiorana, andiamo. Allora, la maggiorana che normalmente è conosciuta come erba aromatica di largo uso in cucina, soprattutto nella cucina mediterranea, e ovviamente è molto interessante in quel contesto perché è utile sia sulle verdure, per esempio sulle zucchine tricolate, sui funghi, può essere utilizzata in sostituzione o insieme alla nipitella. La nipitella? Sì, la caraminta officinale. Però può essere usata anche sulle pizze insieme all'origano o al posto dell'origano, che ha un sapore più delicato. In effetti io la utilizzo, è vero, è vero, è molto buona. E poi può essere utilizzata in varie ricette di cucina, sia per le verdure che anche per le carni. Però ecco, andando a un contesto un pochino più vicino a quello che sono i nostri interessi, è una pianta che è molto interessante per l'azione sul sistema nervoso, è una pianta che è utile in stati di ansia, agitazione, nervosismo, irritabilità. Ah, addirittura, quindi una bella pizza con la maggiorana, calma. Una tiziana di più. Una tiziana di più, io sono colosso. Poi può essere utilizzata per i problemi della prato digerente, soprattutto le cosiddette distrumine neurocreditative, quindi i disturbi della prato digerente legati a tensione, a stati d'ansia che bloccano la digestione. Però ha anche un'azione di proprio di stimolo sugli organi digestivi, quindi si usa per gonfiori, cattiva digestione, pesantezza digestiva, per la formazione dei gas intestinali. Addirittura. È una pianta che può essere usata anche nei legumi per favorire nella digestione. però anche semplicemente facendosi una tiziana a fine pasto può favorire i processi digestivi e ridurre i fenomeni di cattiva digestione, di fermentazione intestinali o anche le emicranie o le cefalee legate alla digestione. Quindi le emicranie legate alla digestione? Principalmente legate alla digestione o alla tensione mentale. Quindi può essere una pianta interessante. È utile anche per le vie respiratorie, perché è utile in caso di raffreddori, sinusidi, per le vie respiratorie basse, bronchiti, catari bronchiali. Ha un'azione sedativa sulla tosse, soprattutto l'olio essenziale. L'olio essenziale? L'olio essenziale è un'olio essenziale interessante, l'olio essenziale di maggiorana, perché ha un'azione anche antibatterica interessante, paragonabile quasi a quella dell'origano, ma meno irritante. In più è interessante anche per uso esterno, come antidolorifico, dolori articolari, dolori muscolari, quindi si può utilizzare diluito ovviamente in olio, ma anche quasi puro, perché non è un olio particolarmente irritante. Irritante. Senti, hai la consueta tisana? Vi do una piccola... Allora, per gonfiori e dolori addominali, cattiva digestione, e mal di testa da cattiva digestione. Ah, ok. Maggiorana 20, angelica radice 20, arancio amaro fiori 20, menta piperita 10, e carvifrutti 10. Di questa miscela se ne prende, come al solito, un bel cucchiaio raso, o colme, come le preferite, in una tazza di acqua, si mette a fuoco e si porta a evoluzione. Si copre, e si lascia riposare 20 minuti, poi si può bere anche dolcificando volendo. Con che cosa? Possibilmente con miele. Con il miele, il nostro miele. Però ecco, può essere dolcificato anche in altro modo, se ci sono anche altri dolcificanti, se il miele proprio non piace, diciamo. Ho capito. Bene, allora, grazie mille. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima. Grazie per seguirci. Continuate a stare qui con noi. Valdinievole News, canale social, Twitter, YouTube e Facebook. Bye bye. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.